ben tornati su radio italians è domenica 16 di ottobre dunque dunque di cosa parliamo oggi allora parliamo poco di politica perché mi sembra tutto in movimento diciamo stile eraclito guardate come sono poetico e filosofico il movimento che vedo mi sembra molto meno nobile di questo ma insomma è un mercato di fatto però insomma ne abbiamo ancora per poco spero quindi solo un messaggio sul tema parliamo invece di digital divide e digital gap anzi la vera difficoltà che molti incontrano per esempio con lo speed vi confesso che io nell'ultima settimana mi sono ritrovato fra quei molti poi vi dico poi parliamo di narcisismo chiede uno studente di filosofia di bologna siamo inguaribili narcisisti oppure vittime della sindrome del personaggio principale è una novità oppure la natura umana poi parliamo di inter e beh questa settimana era obbligatorio e parliamo anche dal grande fratello perché c'è stato un equivoco qualcuno ha pensato che io invitassi a guardare il grande fratello e lo ha fatto questo è il punto quindi sono corresponsabile di almeno due persone in più che l'hanno guardato era un equivoco scherzavo non ci siamo capiti pronti via radio italians i vostri vocali della settimana commentati da beppe severgnini per il corriere della sera caro beppe oggi mentre andavo al lavoro ascoltavo uno dei miei soliti podcast si parlava della lezione dei presidenti di camera e senato e del fatto che la votazione sarà presieduta dai parlamentari più anziani questo tema mi ha fatto pensare in italia quando non sappiamo chi scegliere o come scegliere optiamo per il più anziano come pura data di nascita forse passati 50 anni dovrei gioire di ciò però mi sembra sempre più rappresentativo di un concetto errato che l'età dia necessariamente saggezza non è vero secondo me l'età non dà di per sé saggezza talvolta la caratterizza ma spesso può comportare scarsa propensione alla novità al cambiamento anzi di solito l'età penso tende ad enfatizzare i difetti delle persone e sicuramente a smussarne l'entusiasmo ciao matteo da milano non ho ben capito a cosa tu ti riferisca se ne fai un discorso generale o un discorso soltanto politico sul discorso generale guarda sarò breve io credo che l'età l'anzianità le persone anziane merito tutta l'attenzione e il rispetto perché hanno fatto molte cose nella loro vita è arrivato nel momento in cui hanno bisogno degli altri è anche vero che gli anziani noi anziani perché no possiamo essere egoisti e quindi l'idea di lasciare il passo a qualcun altro non è che venga spontaneo a tutti per parlare chiaro se invece ne facevi una questione politica di certo non ti riferivi al presidente merito giorgio napolitano che non ha potuto presiedere la prima seduta delle camere certamente non è questo magari ti riferivi a silvio berlusconi che di fatto sta a casa sua e giorgia meloni futuro presidente del consiglio deve andare avanti e indietro per la sua casa romana per questo negoziato in vista della formazione del governo eccetera questo non è proprio uno spettacolo edificante secondo me io capisco il rispetto però non va bene non va bene secondo me ancora peggio è se questi rapporti fra i tre partiti quindi fratelli d'italia forza italia e la lega se quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è un po l'antipasto di quello che verrà perché era evidente che sul governo la pensassero in modo diverso è altrettanto evidente secondo me che berlusconi e salvini in questo momento non è che adorano la meloni sono un po seccati prego notare la mia scelta del termine seccati che quella abbia vinto tanto e loro abbiano perso parecchio ma questo si sapeva prima però a centrodestra anzi a destra dovevano pure pensarci no buongiorno beppe buona domenica italians giovanni da bruxelles tornando al discorso fatto la settimana scorsa riguardante l'accesso e la difficoltà di cedere ai servizi bancari digitali o anche di carta identità digitale cosa ne pensi del digital gap in varie fasce della popolazione e come potrebbe essere risolto buona giornata il discorso è molto lungo e lo semplifichiamo al massimo io credo che sempre più persone debbano essere assistite perché faticano a partecipare alla vita digitale che ormai diventa indispensabile anche per accedere alle cure sanitarie o alla pubblica amministrazione alla partecipazione fiscale ormai qualsiasi cosa io penso per il lavoro che faccio e perché ortensia è più brava di me di cavarmela da solo quasi sempre però l'altro giorno ero all'associazione lombarda giornalisti e abbiamo passato un'ora cercando di entrare con lo speed e non ci siamo riusciti e ancora in questo momento sto avendo un sacco di difficoltà e non riesco veramente a capire perché ecco se le ho io con tutti gli aiuti che posso avere penso una persona più anziana di me che vive in qualche posto in italia e non sa dove sbattere la testa questo non è giusto ciao caro beppe sono ricardo e sono iscritto al terzo anno di filosofia sono in procinto di laurearmi proprio oggi mentre ti ascoltavo ho pensato tra me e me che ogni volta che carlo annese dice di mandare un audio io tra me e me penso cavolo glielo vorrei proprio mandare certo poi rimango interdetto da me stesso perché penso cavolo io in realtà non ho proprio niente da dirgli ma è mai possibile che abbiamo tutti sempre indistintamente bisogno di dire la nostra questa sindrome del personaggio principale della storia del mondo ce l'ha data la democrazia internet o siamo solo degli inguaibili narcisisti un super bacio riccardo da bologna anche se fuori sede caro riccardo studente fuori sede allora io propendo per la natura umana ognuno pensa di essere e in fondo il grandissimo protagonista del romanzo della propria vita se tu leggi io anzi lo sto ascoltando alla finalmente alla ricerca del tempo perduto di proust cioè mi sembra un esercizio di agocentrismo non da ridere oltre che un capolavoro non c'è dubbio però che i social internet in genere social in particolare abbiano acuito questo fenomeno perché la possibilità di vedersi costantemente vedere la propria faccia il proprio selfie il proprio video la propria foto in vacanza la propria opinione dovunque è certamente qualcosa che induce e alimenta il narcisismo personale te lo dice qualcuno che se ne intende perché il nostro mestiere ha certamente un lato egocentrico e narcisista uno deve cercare però di ricordare che se io faccio giornalista alla fine lo faccio per voi questo è il punto fondamentale ma lo penso è ciao sono antonio da rivolta dadda vicino a crema non so se sono consentiti i temi sportivi comunque ci provo riguarda naturalmente l'inter zang ha preso l'inter per soft power quando era la politica di xi jinping ma ora che hanno idee diverse perché non la vende non credo sia per soldi perché di offerte ne ha ricevute e continuando così a non investire l'inter si deprezza ulteriormente diventando più scarsa e più vecchia aspetta uno stadio nuovo campacavallo infine volevo anche dire che mi è dispiaciuto molto che inter spac sia finita in nulla ma certo che si può parlare dell'inter per almeno due motivi il primo è che questo vocale arriva da rivolta dadda dove è nata e cresciuta benedetta che è la mamma di agata la mia nipotina quindi figuriamoci a rivolta dadda per me è un ordine arriva da rivolta dadda si fa e poi ragazzi che partita abbiamo giocato mercoledì col barcellona a barcellona una squadra molto forte con un 94 mila persone che diciamo non è che avessero un atteggiamento molto conciliante c'era una pressione enorme l'inter si è comportata da grandissima squadra quindi chiamarla pazza inter è perfetto perché fa sempre quello che non ti aspetti sono molto contento perché credo che per onana con quel lancio meraviglioso per lautaro per gosens per il gol e per lautaro naturalmente sia stata una serata memorabile speriamo che l'inter ne faccia tesoro secondo me ha anche capito come deve giocare non può imitare il bayern a giocatori diversi peccato quel tiro di aslani all'ultimo secondo entrava quello e sarebbe stata una festa ancora più grande a scusa su interspac quindi il tentativo di azionariato popolare per l'inter la cosa è rallentata anche perché non credo che la società sia molto interessata al momento credo che come hai detto il presidente giang abbia i suoi problemi anche finanziari e se non abbiamo il tempo di entrare nei particolari vedremo come va a finire la cosa bella è che la squadra non sembra risentirne quindi bene no ciao beppe sono claudia ti mando questo audio perché per colpa tua questa sera ho guardato il grande fratello nell'ultima puntata hai un po' provocato dicendo ma perché non chiedete degli ombrelli perché non chiedete del grande fratello ecco per colpa tua questa sera l'ho guardato e mi sento di dire che ho proprio buttato via due ore della mia vita aiuto soffoco ciao beppe io sono rafael e parlo da torino cosa ne pensa del grande fratello vip dove tutti hanno bullizzato marco bellavia e solo ginevra lamborghini è stata espulsa del programma ormai non c'era più che parlare di lei perché elettra ha diffidato lei e il programma allora rispondo insieme ai due messaggi allora rafael credo che tu sia brasiliano almeno dall'accento che sento io sono proprio ignorante in materia di grandi fratelli e questi personaggi per me elettra lamborghini sono due nomi elettra è una mia amica di genova tra l'altro che non va in televisione fa un altro mestiere e lamborghini è un'automobile sì scherzo so chi è ne ho sentito parlare però diciamo non passo le serate a guardarla in televisione spero di non sembrare snob ma proprio non mi interessa probabilmente alla signorina o signore elettra non interessa quello che faccio io quindi siamo pari e poi devo veramente scusarmi con claudia guarda che io non ti stavo invitando a guardare il grande fratello adesso tu mi lasci col senso di colpa capisci io ho il senso di colpa claudia ci sono altri modi di impiegare le serate però ripeto non voglio sembrare snob semplicemente ci sono delle cose che non faccio se volete la prossima volta adesso non ho il tempo io ho proprio scritto un elenco di cose che ho serenamente eliminato dalla mia vita il grande fratello è una di queste ma ce ne sono almeno altre 45 50 se volete se qualcuno mi lascerà un messaggio in proposito la prossima volta ve le leggo tutte proprio le cose che non faccio e vi assicuro che fare queste liste è molto utile quindi se mi chiedono di fare una di queste cose dico non posso è nella mia lista saluti a tutti questo era radio italians i vostri vocali della settimana commentati da beppe severgnini per il corriere della sera mandate un breve messaggio al 345 6125 226 e riascoltatevi nei prossimi episodi radio italians è l'appuntamento domenicale di corriere daily il podcast quotidiano del corriere della sera a cura di tommaso pellizzari in redazione francesco giambertone produzione di carlo annese con giulia pacchiarini